Finalmente Sassari riavrà uno dei più importanti polmoni verdi della città, chiuso da diverso tempo a causa dell'assenza di un gestore. La ditta Marajà si è infatti aggiudicata all'appalto predisposto dal Comune per la gestione del parco di Badimanna e delle strutture annesse. La concessione, che avrà durata decennale fino al 14 dicembre 2031, comprende la gestione dei punti di ristoro, di bar e ristorante, del palcoscenico per gli eventi, delle aree gioco e picnic e degli 8 ettari di pinetta che circondano l'area. Per poter avviare i servizi, tra cui quello di ristorazione, come primo intervento la ditta dovrà avviare la manutenzione straordinaria degli edifici, che in questi anni sono stati spesso oggetto di atti vandalici. La spesa necessaria è valutabile in circa 30.000 euro. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, il parco sarà aperto al pubblico. Della manutenzione, del miglioramento e della valorizzazione del patrimonio arborio, continuerà ad occuparsi l'Agenzia Forestas, impegnata nella mansione, dal marzo 2019 attraverso una convenzione.